ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un altro episodio dedicato alle vostre collezioni di orologi ed eccoci qua con un'altra puntatella simpaticamente dedicata agli orologi che voi ci mostrate nei vostri video alle vostre collezioni il vostro percorso cosa pensate del dato orologio del dato marchio e come vi comportate noi siamo un pochino come si suol dire voyeristici quindi ci piace guardare gli altri anche per poi far nascere una nuova nocciolina per la scimmia perché ti guardi gli orologini qua e guarda anche lei e insieme no facciamo finta che insieme decidete poi quale può essere il vostro prossimo acquisto magari un orologio che non avete mai visto in vita vostra compare qua come per miracolo e così lo scoprite io ho scoperto anche io degli orologi che non avevo mai visto in questa rubrica qua è come può essere accade spesso che ci sono sempre soliti orologi due tre i best buy best seller diciamo sempre quelli ci sono ma noi ci accontentiamo ci piace guardare tutti gli orologi ora prima di guardare lì vi mostro l'orologio del giorno che ancora una volta questo simpatico orologi calamai mc 72 39 mm di diametro cassa quadrante nero opacco che io indosso poi con questo cinturino nato color verde militare è simpatico è un orologio in stile aviazione militare ci sta bene il nato color verdolino detto questo partiamo subito con il primo videone e ci dobbiamo il pensiero dai guardiamo il video vai ciao davide mi chiamo Elia ti mando questo video da Cremona e inizio col farti i complimenti per per il tuo canale grazie ho iniziato a seguire ormai da penso dalla quarantena covid quindi sono già quattro anni che ti seguo bravo e niente diciamo che mi sono appassionato agli orologi tramite mio padre diciamo che una questione che mi ha trasmesso lui bene e niente parto con la farti vedere il primo orologio diciamo che è stato un ultimo ritrovamento che ha fatto mio padre a che è questo orient carino tre stelle trista che è stato prodotto tra gli anni 70 e 79 non ho trovato in molte informazioni su questo dei date e questo orologio apparteneva a mio nonno però è il padre di mio papà bravo nonno e adesso provvederò a fargli un ottimo restauro perché come vedi c'ha una bella crepa sul sul vetro e spero di ritrovare almeno crepa sul vetro non è non è sì non si vedono spesso gli orologi con la data sull'auretre e il giorno a 2 ore 9 qua hanno divise per fare una cosa un po' simmetrica si vede che è uno di quelli è come il maco a1 che va il pulsantino per regolare il giorno della settimana a ore 2 qua c'è il pulsantino per regolare anche se dall'altra parte si regola ugualmente con il vetro e il braccialo originale però tienilo lontano al massimo non avvicinarlo metterò un cinturino se non trovo il suo un cinturino che gli possa stare bene poi posso ancora farti vedere un altro orologio questa volta appartenuto al mio bisnonno e devo dire che per l'età che ha è ancora in ottime condizioni faccio vedere che è questo bellissimo zenith stellina in oro carica manuale 35 mm diametro cassa con ancora il suo cinturino e cocodrillo originale e fibia in oro originale anni 70 e a questo provvederò a cambiargli cinturino perché ovviamente conservando questo originale però gliene metterò un altro simile penso della della stessa colorazione bravo anche perché questo come dress watch diciamo che si adatta praticamente a tutto quindi quando ci si veste eleganti fa la sua ottima figura che è lì più distante gli orologi prossimo orologio è un orologio che aveva acquistato mio padre nuovo ed è questo omega bello questo master 300 gmt questo non mi sembra di averlo mai visto sul canale e quindi ci tenevo appunto a mostrartelo e a mostrarvelo a voi tutti ci piace e questo orologio l'ha acquistato mio padre nuovo a listino e omega l'avevo fatto se non sbaglio per il cinquantesimo anniversario di omega ed è stato prodotto mi sembra tra il 99 e il 2000 2001 massimo comunque nell'arco di tempo di questi tre anni non può essere cinquantesimo anniversario di omega nel 2000 vuol dire che è nata nel 1950 e no sarà il cinquantesimo anniversario magari della collezione simaster che ne so o qualcos'altro anche un attimino di no di mente locale ci ragioni cinquantesimo di omega era fatta nel 1950 omega e no che dire un orologio a parer mio bello indistruttibile ma certo infatti come si può notare mostra qualche segno è giusto così nel tempo però vitro zaffero gmt un bellissimo orologio a parer mio anche per me e anche questo si può mettere diciamo dove in ogni occasione ok è stato appena revisionato bravo ma promosso e poi diciamo l'ultimo pezzo che ti faccio vedere che ti faccio vedere oggi anzi no penultimo va e questo fortunatamente siamo riusciti ad acquistarlo a listino appena uscito nell'ottobre 2020 se non sbaglio cos'è questo orologio va bene non ha bisogno di molte presentazioni e si ma tira fuori dove ce li hai rolex su mariner per quanto mi riguarda il vero su mariner perché poi c'è su mariner date certo questo era il nuovo su mariner la nuova referenza più lontano e 41 millimetri in ceramica movimento 32 30 riserva di carica 72 ore diciamo che è il solito sub che ormai è stato visto e rivisto però è un orologio che a me è sempre piaciuto molto e quindi non potevo non acquistarlo fortunatamente l'ho acquistato a listino e diciamo che adesso sono in attesa di un altro orologio che dovrebbe arrivare a breve cos'è cos'è quindi vi manderò un nuovo aggiornamento magari tra qualche mese della collezione certo prima di chiudere ci tenevo a farvi vedere questo orologio curioso perché è un orologio a batteria della nike che a quanto so è molto raro ne hanno prodotti molto in molto molto pochi meno male e infatti sono rimasto sorpreso da dalle valutazioni che ha raggiunto ora mi sembra sia tra i 600 e 1000 euro adesso devo appunto cambiargli la batteria perché è scarico è somma sia un orologio simpatico si può avrà preso mi sembra mio padre a mia madre e niente concludo qui il video di oggi vi saluto tutti saluto te davide grazie magari ci aggiorneremo vi aggiornerò più avanti con qualche acquisto certo sapete bene che le collezioni degli orologi possono finire ma anche non finire detto questo ciao a tutti ciao ora manda pure l'aggiornamento che non stiamo nella pelle siamo tutti lì che vogliamo attendere e contro attendere ora detto questo un 6 io ti do semplicemente un 6 perché submariner omega gmt poi tutti orologi lasciati contro lasciati carini no zenith per l'amor del cielo sì però non mi è venuto il brivido non mi ha fatto venire il brivido il submariner sul quale sono anch'io d'accordo che è il submariner è quello senza data poi c'è il submariner date che è quello con la data no però quello diciamo capostipite questo qua dovrebbe essere anche secondo me poi prendere anche quello con la data non è un problema prenderei tra virgolette perché sono orologi che meno un po stufato lo sapete ormai non è il submariner è il daitone è il gmt anche basta no un bello yacht master va bene poi va bene tutti i belli orologi però praticamente di tuo e uno c'è gli altri anche l'omega è il tuo babbo mi ha fatto vedere la roba il tuo babbo stotto sei ma beh prendi lo porto alla casa perché vedremo poi durante il tuo video di aggiornamento per il quale non stiamo tutti nella pelle come ripeto se riuscirai a migliorare un po questa valutazione che per adesso lascia un po a desiderare prossimo video tutti siamo luca e federica e ti presentiamo vi presentiamo le nostre orologi vai allegria cominciamo con l'orologio della comunione ecco fatto bello quarzo titanio bello dimenticabile passiamo un altro quarsetto questo è un seiko non funziona tipo dovrebbe essere dell'80 simpatico dai quarzo la batteria mi ha abbandonato devo troviarla è infingarda è infingarda la batteria non dovete usare ok un altro orologio questo ellas dovrebbe essere degli anni 60 unitas 6325 purtroppo la cassa è talmente rovinata infatti avevo intenzione di sbarazzarmene perché non è più di mio di gradimento peccato perché era molto leggibile ok adesso possiamo qualcosa di particolare che non ho mai visto sul canale questo è un orologio incassato in teoria era incassato nei quadri strumenti degli aerei russi l'ho visto su alcuni mig 29 bello anche il cronografo quindi quello lassù e l'orologio farlo portire fammi vedere bene come funziona questo spit a fione qua che è interessante è bello allora praticamente c'è l'orario centrale dalle due lancette centrali poi c'è un altro orario sopra lassù nel quadrante a ore 12 e cosa sarà quello lassù non lo so potrebbe essere un secondo orario oppure le ore addirittura i minuti cronografici e poi c'è una lancetta a ore 6 che presumo sia i secondi la secondina e poi la lancetta centrale che cronografo io l'ho interpretato così ora guardiamo eccolo lì ah no è doppia anche alla secondina ore 6 ok ho capito possiamo ai miei favoriti bello 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 bravo certina ds2 questo sovrannominato il carro armato che ho avuto anche modo di testare perché questo mi è caduto da un metro e mezzo di altezza è esploso il vetro e le lancette sono volate via ma il calibro non ha subito nessun danno e vabbè però insomma non è che tanto car armato mi è caduto da un metro e mezzo è partito il vetro le lancette sono esplose insomma il suo dannetto l'ha fatto non è che car armato car armato poi mi dice il calibro è resistito urrà 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 ma insomma non è questo gran car armato è direi più un ballerino bellissima tartarughina tartarughina ok dopo passiamo l'orologio che considero il mio top top questo sigma indicativamente degli anni 50 oro purtroppo tubolare tubolare in camicia meccanismo automatico bidinator il primo con carica bidirezionale ha anche un'incisione sul fondello cbs columbia ora a proposito delle casse in oro con questo qua che detto tubolare significa che magari è incamiciato volevi dire quello no non è placato è incamiciato sul mio sito web personale che è contatori del tempo punto it che poi anche lo sponsor di questa trasmissione diciamo ho dedicato una pagina ai longines e alle casse in oro dei longines e ma è più o meno le cose le stampigliate sui fondelli valgono per tutti i marchi quindi se tu apri questo orologio guardi il fondello leggi le diciture soprattutto i marchi i punzoni che sono riportati incisi riesci a risalire a tutte le caratteristiche della cassa del materiale di come è fatto addirittura del produttore della cassa così se uno volesse un attimino avere una maggiore idea di quello che ha per le mani come diceva cicciolina questo è l'orologio del giorno lo uso spesso ho posto canfibia l'unico che ho preso nuovo finora piace molto resistente e non fa ruggine per quello che ho avuto modo di testare finora la cassa è cromata mi sa passiamo adesso alla mia piccola collezione e chi sei? questo Casio Federica che ho indossato per molto tempo finché non è stato sostituito con questo regalo da parte di Luca un Venus che dopo ha cambiato il cinturino e ha avuto un piccolo problema infatti adesso non funziona tanto bene perché perde tantissimo e in quanto è stato revisionato male da un nostro amico e quindi sarà da revisionare di nuovo che voce soave per aggiustarlo poi questo piccolo orologio di mia nonna è ancora funzionante solo che è meglio darci una controllata e ovviamente cambiare il vetrino vetrino e poi l'ultimo orologio bello citizen pro master top che lo uso spesso in questo periodo per andare al mare ma anche per ogni situazione diciamo da battaglia battaglia e adesso ho preso il nuovo cinturino in Zulu che Luca dovrà montarmi perché io non sono capace ti monta il cinturino sì beh un saluto a tutti amici del canale spero di aver preso qualche top e nessuna ciofeca anche se so che è impossibile e ciao a tutti e love ma no love va bene allora gli diamo un bel 9 perché c'è il pro master marine che è un signor orologio e a te Luca un 6 e mezzo perché non hai passato la barriera no lo sbarramento non l'hai passato un 6 e mezzo ecco ma anzi sì una menzione particolare un encomio per l'orologio da aviazione che è che hai mostrato quello russo quello lì ecco mi piaceva anche riguardarlo due o tre volte per capire come funziona anche aprirlo vedere dietro cosa c'è dentro cosa c'è però la signorina prende il 9 e te il 6 e mezzo proprio papale papale mi dispiace è così ciao Davide sono Alessandro dalla provincia di Torino Torino fermi tutti diamo un'occhiatina a tutto quello che ci ha piazzato lì perché gli amici ci vogliono far vedere le cose simpatiche che hanno come sfondo per farci capire le loro passioni quindi arriva il concordo stampa sera sarà più appassionato di aviazione sì perché c'è il modellino del concordo sotto ci sono degli orologi c'è un un berretto un copricapo io sembra colore della guardia di finanza poi non saprei cosa dire la 500 una macchina Goldrake la Juventus Goldrake tranquillamente nella scatola mido Ayrton Senna a pace all'anima sua e poi gli astronauti e quella con il corpetto rosso la sua non so chi è patoto va bene dai con un purpurri di interessi che ci fanno piacere sapere ci facciamo gli affari degli altri saluto a te e a tutti gli amici del canale ecco qua la presentazione di alcuni dei miei orologi abbinati spero non dispiaccia a quelle che sono un po' le mie passioni che è il modellismo gli autografi di personaggi famosi ecco gli autografi discorrendo bravo e maradona inizierei con un Tagoyer acqua race spero di non fare sbagli non ho fatto prove niente comunque te li presento così a volo stanno a tutti i tempi qua c'è lui Ayrton Senna con il suo autografo originale e l'ho abbinato appunto a un Tagoyer acqua race racer Tagoyer il suo sponsor quando correre in Formula 1 prima di andare all'arena yes poi passo a questo Mido Multiford bello che hai anche presentato tu che appena ho visto mi è piaciuto ho abbinato un po' anche per i colori Mazinga Goldrick all'auto che avrei penso riconosciuto di Starsky Hatch è vero è vero ai Gigrabu Star Silvestre Stallone a qualche gioco Vintage sono anche appassionato di giochi Vintage Big Jim questa l'avrei riconosciuta perché più o meno abbiamo la stessa età io sono del 73 kit super caro e poi non sapevo a cosa abbinarlo ho pensato a un discorso di aeronautica quindi mi è sempre piaciuto il Concorde e quindi abbinato a un discorso di aeronautica questo bellissimo a mio viso toccato Brightlin Navi Timer 43 mm in movimento di manifattura con il suo cinturino originale con la Depoyant a cui ho messo questo cinturino anzi questo bracciale chiedo scusa in metallo fondello trasparente un orologio bellissimo ecco io questo qua è un orologio che non ho mai visto in vita mia con questa configurazione questi colori così un po' USA è dedicato a qualcosa di particolare non saprei perché bianco, rosso e blu mi ricorda tanto la bandiera USA poi il resto non saprei bello dai mi piace con dei bellissimi colori poi passo a questo Panerai che essendo un orologio in stile militaresco ho abbinato a quello che è stato il mio passato di militare è un 8 giorni di riserva di ricarica in titanio 44 mm movimento manuale con il suo cinturino in pelle di coccodrillo originale a cui ho messo questo cinturino per l'estate di comodità in cordura color marrone in tutto questo presento anche l'orologio del giorno che è questo stupendo classico anche te top Rolex su Marmer 41 mm ne ho avuti diversi anche dei GMT ho avuto uno Yacht Master a cui sono ancora legato che mi piaceva tantissimo e alla fine colori non colori sono arrivato alla pulizia di questo Rolex su Mariner classico a cui con cui mi trovo veramente veramente bene beh un vintage a cui ho abbinato questi autografi di Sofia Loren Stanlor e Oliver Hardy tutti chiaramente originali non stampati e questo qui tengo tantissimo che è Totò a 500 e questo Zenith bello 36 mm testa oro secondi centrali da Atari ore 3 non ricordo sinceramente il movimento me l'ero scritto ma per dirtelo ma poi non lo sono segnato quindi chiedo scusa non lo ricordo non è un problema comunque fatto revisionare non perde un colpo è veramente eccezionale nonostante io abbia un polso da quasi 20 cm 19 e mezzo 20 ti assicuro che con queste arse fatte in questo modo sta veramente bene e infine come potevo non avere l'Omega Speedmaster a quale ho abbinato uno dei miei ultimi acquisti di autografi che sono gli autografi della crew di Apollo 11 la missione quindi Louis Armstrong Michael Cornish e Buzz Aldrin con il mio Omega Speedmaster anni 90 purtroppo gli indici a ore 2 ore 4 sono un po' saltati il trizio si è asciugato comunque doppio fondo Fondelovista è nel 1994 per gli 25 anni dell'anniversario dell'Apollo 11 chiedo scusa per le riprese comunque un movimento eccezionale è certo come si vede è quello con la scritta Apollo 11 è sempre bello Fondelovano la serie limitata comunque ecco qui Apollo 11 questi sono i miei orologi principali e niente un saluto a tutti le persone del canale un saluto a te grazie mille ciao 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 un bell'otto ti do un bell'otto perché mi è piaciuta l'esposizione il contesto l'idea dell'abbinamento con le varie cose anche per farci vedere le tue passioni 8 poi gli orologi l'avete visto tutti Tagoer Acquarecer top Brightling Navitimer top Rolex Submariner top Speedmaster top quell'altro non mi ricordo più cos'era era top e poi sono rimasto un attimino lì quando hai fatto il ragionamento dei degli autografi ho visto che c'è autografi e dico ma come fa a conoscere o andare a vedere a mettersi in fila e poi al fine hai detto giustamente che l'hai acquistato si acquistano praticamente ed invenuto a mente che non ci avevo mai pensato che è un'ulteriore branca del collezionismo cioè acquistare come io acquisto i ritagli di giornale delle pubblicità dell'Unjim per farmi un raccoglitore con tutte le pubblicità cioè non è che sono miei o che ho le riviste e le acquisto quindi lui acquista gli autografi è un collezionismo un tipo di collezionismo che si può permettere è bene che faccia si diverte prova soddisfazione comunque 8 bella esposizione bella collezione di orologi e anche simpatico poi ho visto tante cose anti gusti in comune Goldrick Mazinga e Gigrobo già critico ci metterei anche Gundam dentro e poi siamo a posto prossimo video ciao Davide ciao sono Nicola e volevo farti vedere la mia piccola collezione di orologi bravo partiamo da questo Timex con tecnologia Indiglo un orologio semplicissimo al quale però sono molto affezionato perché è il primo orologio che ho scelto e che ho acquistato con i miei piccolissimi risparmi di allora bravo e avevo circa 13-14 anni e mi piace molto anche il fatto che la cassa esterna in plastica abbia virato su questo color panna mentre il colore ah pensa un po' pensavo io fosse il suo colore naturale così allora era bianco prima sì dal bianco è diventato panna così ma carino mi piace secondo me è un ottimo orologio a tenere in collezione non lo dico con ironia tra il colore originale era bianco come si vede qui nella parte diciamo protetta dal vetro e niente mi fa pensare un pochino ai tempi che corrono nel bene e nel male quindi così ci sono affezionato bravo passiamo al secondo quarzon che è il super visto rivisto trito e ritrito swatch moon swatch io avevo scelto questa colorazione diciamo giove e niente un orologio di cui si è detto già tutto è un oggettino simpatico così da avere nella collezione io non lo metto mai perché è impressionante quanto sia tenero diciamo il vetro in plastica veramente si graffia anche solo con il pensiero il primo orologio poi importante tra virgolette che mi sono acquistato che ho scelto da acquistare con i soldi del lavoro è questo corniche di questo micro brand francese al quale diciamo ho applicato questo quadrante questo cinturino in pelle blu che secondo me sta molto bene con le lancette e appunto dicevo che è un micro brand francese con è un cronografo ibrido quindi c'è una parte del tempo diciamo al quarzo e poi il cronografo è un modulo è un modulo meccanico e niente secondo me potevo fare molto molto meglio visto che comunque non l'avevo pagato poco ma potevo fare anche molto molto peggio perché al tempo non sapevo nulla di orologi non che adesso sappia molto di più però probabilmente avrei fatto un acquisto più consapevole adesso e questo orologio mi fa soluzione la prima domanda che volevo farti cioè cosa ne pensi appunto degli orologi con tecnologia ibrida così a volte penso che siano delle cavolate altre volte invece li reputo intelligenti quindi niente fammi sapere cosa ne pensi cavolate per me una cavolata non è una cavolata nel senso che intendo modulo meccanico no allora intanto per gli amici spieghiamo un cronografo mecha quartz si chiamano non ibridi mecha quartz è quello che ha il comportamento della sfera cronografica nel ritorno si azzerra come se fosse meccanico cioè si stacca si stacca la molla e parte lancetta tornare indietro senza fare il giro col motorino come tutti gli orologi al quarzo cronografi no ma non è che c'è una molla e un bariletto che fanno muovere la sfera cronografica la sfera cronografica si muove esattamente con il motorino elettrico alimentato dalla batteria quindi non è ibrido non c'è nessun sistema meccanico che fa muovere l'orologio e non c'è nessun organo regolatore meccanico che fa tenere il tempo all'orologio è tutto al quarzo semplicemente che ci sono dei rinvii con delle ruote e lì pensi che è meccanico vedi le ruotine che fanno muovere la sfera la sfera cronografica è sempre alimentata dalla batteria e la zerano nel sistema che non che non sembra al quarzo simpatico un sistema simpatico sul quale non vedo non vedo vantaggi o svantaggi rispetto a un cronografo al quarzo contento te contenti tutti passiamo al mio unico diver che è questo Seiko Prospex versione paddy quindi dedicata a diciamo agli istruttori subacquei mi piace molto di questo orologio mi ha colpito tantissimo questo quadrante blu che sfuma diciamo dall'azzurro chiaro a ore 12 al blu scuro diciamo ad ore 6 quindi simula quello che è la visione dei colori sott'acqua e niente Seiko diciamo non ha bisogno di presentazioni grigli gira unidirezionale e niente molto molto simpatico e me lo sto godendo quest'estate e continuerò a godermelo al mare bravo un orologio molto piacevole da indossare molto bello poi passiamo all'orologio passiamo all'orologio un orologio che non ha un valore intrinseco molto elevato perché è un villervetta al quarzo di fine anni 80 ma probabilmente è il più diciamo prezioso per me perché appunto è un lascito di mio nonno che da poco tempo se n'è andato e me l'ha regalato mia nonna e niente ci sono molto molto affezionato e rimarrà sempre con me sarà sempre diciamo il più prezioso al di là del valore per l'amor del cielo l'ultimo che volevo diciamo mostrarvi è stato il mio regalo dei 30 anni è stato diciamo un parto gemellare ottenere questo orologio però finalmente da qualche settimana è con me ed è questo Omega Speedmaster Moonwatch con il dial al bianco questo quadrante secondo me divide un po' diciamo gli amanti di questo orologio io appena l'ho visto mi ha mi ha rapito secondo me da vedere dal vivo perché questo quadrante laccato è veramente profondissimo e luminosissimo e non rende penso che non rende in foto e niente appena l'ho visto l'ho desiderato tantissimo e sono riuscito a farlo mio e questo orologio mi fa assolgere la seconda domanda cioè cosa ne pensi tu di questa versione diciamo col quadrante bianco se secondo te lo Speedmaster doveva rimanere così diciamo fedele a se stesso quindi mantenere il dial nero oppure se accetti diciamo ti piace appunto questa versione la reputi così un orologio meritevole ecco ti faccio vedere anche diciamo il movimento perché questa versione ha il doppio zaffiro davanti e dietro forse è l'unico diciamo che merita di essere visto anche sul fondello perché è veramente spettacolare questo calibro mega e niente con questo orologio ti saluto e ti ringrazio tantissimo per i video che porti ci tengono sempre un sacco compagnia e niente fammi sapere cosa ne pensi della collezione ciao davide ciao 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 allora intanto ti dico cosa ne penso dello speedmaster bianco del moonwatch bianco che è uscito da poco infatti fa piacere vedere una nuova uscita così di botto bello mi piace mi piace io non lo comprerei credo credo che non lo comprerei se dovessi partire da ora e decidere quale comprare prenderei quello nero perché perché mi piacciono di più gli orologi neri in generale non tanto perché per la prosecuzione della specie no non sono l'ho già ribadito tante volte per me lo speedmaster lo possono fare anche rosso come possono fare anche il submariner verde ah no quello l'hanno fatto giallo oppure i panerai che li fanno da 50 metri di impermeabilità piccoli è uguale per me non bisogna cioè chi si ostina a fare sempre le stesse cose non è coerente la coerenza è capire quando si sta cambiando idea e seguire quella idea quindi non è che uno per rimanere coerente deve fare lo speedmaster nero in plexiglass col fondello chiuso e con il calibro 8 6.1 o 3.2.1 di quelli vecchi no si va avanti ci sono tutte le varie edizioni che ti pare a te limitate così come negli altri orologi e va bene ben venga va benissimo poi loro lo fanno per business ragazzi cioè se ti devo vendere un orologio bianco in più te lo vendo in più punto no poi è bello c'è poco da dire voto la collezione un 7,5 te lo do un 7,5 ora non mi ricordo più nemmeno gli orologi che avevi figurati un po' come siamo messi mi fai tutte queste domande così e io vado in crisi no il timex all'inizio l'omega di dimenticabili quello con il mecha quarts dimenticabile quello del nonno va in serie A poi il Seiko bello il Seikone quello che ci piace poi abbiamo avuto l'omega Speedmaster bianco è trovato il 7,5 è trovato il 7,5 che forse è anche troppo anzi abbasso abbassiamo un bel 7 Speedmaster e il Seiko sono quelli che di maggior pregio poi il resto sono dimenticabili cioè se uno ce li avesse o non ce li avesse non sarebbe non cambierebbe la storia dai su via adesso ragazzi passiamo alle video cartoline dalle vacanze e guardiamo un po' prepariamoci a questa botta di vita ciao Davide altro trapunto da Isola delle Femme ciao Davide Davide è il numero uno in Italia per quanto riguarda gli orologi questo giro con il passer full lume oggi avevo voglia di qualcosa di più tecnico bravo questo lo uso per le attività più gravose in acqua quando magari decido addirittura di bagnermi i capelli un saluto da Palermo Picciotti love Palermo Tano ciao Davide ciao chi sei? Isola Caporizzuto Antonio bravo Benfis Bell mille metri ti ci vogliono tutti buongiorno Davide Antonio Isola Caporizzuto Picnos sempre quello di prima l'explorer in acqua un saluto dal lago di Garda ecco le signorine ciao a tutti dal passo dello Stelvio 2700 metri alto Adige con il mio fido Rolex Air King del 1975 bravo ciao a tutti da Federico bravo chi va in montagna e chi al mare ciao sono Stefano della provincia di Parma in questo momento da Marinella di San Zara ah Marinella super squall è un brand new per il D-Eat per la mia R che si parli già ma un R uvolare anche saluti e raggio l'acqua bravo ciao Davide come vedi la ghiera è in posizione per cronometrare i tempi di immersione sto per testare la profondità dichiarata dell'acqua racer di 300 metri la sto per testare come puoi vedere in 50 centimetri con le bollicine un saluto a te e a tutti gli amici del canale da Giuseppe ciao un abbraccio buongiorno Davide buongiorno anche agli amici del canale qui dalla ridente Senigallia che ci avrà da ride qua abbiamo la rotonda bello bello un caro saluto dal fedele abbonato Angiova e dal suo Seiko King Turtle non si vede perché c'è il sole si vede bello con bracciale giubile della Ancol Seiko buonestate a tutti dalla Calabria questo video è da diamante sullo sfondo vedete l'isola di Cirella che mare e per l'occasione due orologini due? giusto per fare il video buonestate a tutti e alla prossima a tutti a tutti prossimo ciao buongiorno Davide un saluto a te e a tutti gli amici del canale un saluto dalla Grecia da Zacinto precisamente nello Ionio e dal mio umilissimo ma sempre bello Citizen ProMaster va per la maggiore ciao a tutti ciao ciao Davide ti mando il video direttamente da Gallipoli Gallipoli SKX SKX 007 bravo facci la revisione perché sennò sempre fare il bagno con gli orologi buona vacanza buona vacanza ciao Davide dal mare Adriatico Porto Santo il Pidio eccolo emergere dalle acque il legenda il legenda 42 mm questo di acqua ne ha presa parecchia ti sta anche bene ho preso pure il lago di montagna la settimana scorsa un orologio fantastico buone vacanze a tutti buone vacanze ciao Davide un saluto a tutti gli amici eccomi qua con il mio bellissimo Yema Superman GMT full bronze direttamente dalla Grecia da Creta precisamente da Mandala bellissimo posto un saluto a tutti gli amici di Contatori del Tempo ciao 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 mitico Davide saluti da Igea Marina bell'aria cinturino giallo sei un grande numero uno assoluto ciao 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 Davide sono Fabio e Silvia siamo qui nel Pazubio dove è stato teatro tristemente del primo guerra mondiale ci sono le trincee di nostri compagni d'avventura il mio Fui Boss webmaster e il City Pro Master di mia moglie bravi ciao buona vacanze ciao Davide ti mando video da Riva del Garda un po' di gnocca perché volevo assolutamente alimentare la tua scimmia ecco è di bello questo questo bel panerai so che ti frulla per la testa e quindi eccolo qui mi ci vuole dai ciao Davide ehi così dopo un castello di sabbia con mio figlio un abbondante crema ci facciamo un bel bagnetto bravo sì certo non sarà un top player questo orologino ma nella mia collezione comunque è uno di quelli che ha più valore ottimo ottimo si sta bravo acqua anche qua ciao Davide squale sono Luciano molto iscritto come sempre complimenti per il canale grazie e ti sto mandando questo brevissimo video dalla bellissima isola di Rodi qua siamo a Lindos e ti volevo far vedere l'orologio che mi accompagna oggi al mare questo splendido squale versione Dress Galeazzi veramente molto molto bello e soprattutto in acqua fa il suo mi dà tante tante soddisfazioni e vabbè ti abbraccio buona estate ciao Davide ciao oh ieri che posto vicino saluto dalla meravigliosa ottaca nello specifico qui siamo ad Affales ciao Barchetta posto splendido oh povero acqua acqua tristallina orologio del giorno questo certina di SPH 200 certina è un salutone d'altre isole con altri orologi buongiorno Davide a tutti gli amici del canale dove siamo? un ferragosto a tutti da Alessio da Castiglione della Tescaia oggi il sole non si è vista ancora però vi faccio vedere il mio orologio che ho oggi ecco qui mi raccomando un saluto a tutti e love of all ciao Davide sono Federico da Creta un saluto dal mio luogo di villeggiatura l'orologio della vacanza è un umilissimo Citizen ProMaster nero eh titanio trattato pvd vetro zaffero e full lume bello un orologio che fa il suo diciamo fa il suo e niente saluti dal mare saluto ecco ecco sia quella roba lì dove siamo? ciao Davide un saluto dalla tua amata Liguria dal mio Super Vostok ovviamente in acqua ah brava e dopo il Super Vostok di Eleonora mia moglie ti faccio vedere il mio diver lo devo lo zuppare facciamo un giochino vediamo se riesci a indovinare che orologio è di che orologio si tratta eccolo qua in tutto il suo splendore SPB se indovini quando verrò a trovarti al prossimo meeting a Via Reggio ti offrirò un bel cornetto e uno spritz ciao buone vacanze ciao un SPB un secco SPB che cavolo ne so buone vacanze buone vacanze buone vacanze panerai bianco al mare panerai sommessi buone vacanze bella bella che è questa ci vuole questo è l'altro red cod l'altro ha cambiato il cinturino mi fai le finte mi fai tutti i colori bravo sei simpatico dai basta ora ancora giallo giallo oggi andiamo di giallo ma ancora ma la prima giornata perfetta arriva in questo video qua ultimo gommone che mettiamo sul sommersivo acquamarina Tiffany azzurro marco ciao ci vediamo bella ciao davide siamo mattia e riccardo da queste bellissime acque di riccione siamo qua per farti vedere i nostri orologi parto io con questo diver rivisitato un Hamilton khaki field expedition questo cinturino in cauciù per fargli fare un po' di bagno passo la palla al mio collega che ti presenta questo Voderri in bronzo sei venuto a fargli un po' di patina sì esatto c'ha pure la aspetta la dente magnificatrice mamma mia siamo alta qualità professionale esatto particularità di questo orologio era stato costruito per per le tartarughe sì esatto c'è un quadrante al guscio di tartaruga per andare con anche il fondello è in tema bellino dai vabbè non ti sforzare se ti lo perdi in mare sono cazzo sì quello sì non si sforza ma intanto ti faccio vedere il mio bellino bellino simpatico eh fai il suo lo indosso con piacere bravo mi tiene bene il tempo si 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 questo è il fondello con una tartaruga c'ha le le barre per togliere il cinturino velocemente insomma non mi ricordo me che si chiamano lo sgancio rapido lo sgancio rapido esatto e questi sono i due bambini al mare esatto in queste bellissime acque Davide un saluto buone vacanze fai il bagno nell'acqua vai ciao Davide ti mando il mio video delle vacanze dal Messico ti faccio vedere il mio orologio per le mie avventure fuori dall'Italia questo fantastico squale sub 39 GMT con 300 metri di impermeabilità la lancetta rossa che indica il secondo fusolo un po' stata sull'ora italiana non muovendo la ghiera quella preferisco utilizzarla per misurare i miei tuffi in mare avendo 90 scatti a casa il suo bracciale con finali pieni in acciaio e il suo cinturino in pelle originale qui al mare preferisco utilizzarla con questo nato in pandan con gli indici dell'orlogio l'altro giorno con lui ho nuotato insieme allo squallobalena il pesce più grande del mondo nel frattempo goditi questo senote a sta lui che ombre ombre bello qua eh simpatica ecco fatto cos'è? alien che pescione finito abbiamo finito ragazzi ho queste bellissime videocartoline dalle vacanze ci lasciano sempre un po' l'amaro in bocca no? l'amaro in bocca beh fa piacere vedere le persone che vanno che si divertono che chi va in montagna che va al mare città in città di cultura non è ancora visti eh a parte l'amico che ha unito la cultura della prima guerra mondiale con le montagne del nostro nord Italia beh per il resto tutti a fare baldoria qua e là vedo che il citizen pro master è uno di quelli che va per la maggiore ma in questo in questa videata di oggi anche anche squale ne sono comparsi un bel po' eh anche un bel po' di squale poi panerai simpatici panerai poi uno fai in piscina con l'Ronex Explorer ci sta a 100 metri di impremiabilità ecco l'Rona Vite non è che devi avere paura perché non è un diver no? ce la potrei portare anche io l'unico problema quando vai in piscina che poi appoggi le mani così sei dentro appoggi le mani sul bordo piscina la clasp fa così e graffi la la clasp io con il simastro è vissuto c'ha tutti i segni della piscina che ha vissuto questo questo shock in piscina come fosse una guerra per lui va bene da i voti non si danno a queste videocartoline continuate a mandarle per ora poi a un certo punto con le videocartoline la facciamo finita eh non è che possiamo mandare videocartoline estive fino a dicembre che poi ci viene anche il magone no? ne è attesa ancora un paio di volte e poi dopo diamo lo stop eh oh ragazzi a me mi sembra di aver detto tutto e mi sembra che siamo arrivati al termine di questo video io non posso più stare qua perché devo assolutamente andare su Instagram a guardare i video dei gattini che saltano da un albero all'altro e che fanno cose incredibili no? secondo me il futuro dell'umanità è in mano ai gatti diventeranno i padroni del mondo un giorno ve lo dico io vi ringrazio per essere arrivati fino a qua e vi ricordo che lo sapete già gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su YouTube love ciao 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 ciao